Il comune si costituisca parte civile nel processo su crollo del tetto al Palasport. A chiederlo al sindaco Cristian Colasante, il consigliere di minoranza Livio Susi. Susi avverte che rimane vigile l'azione di controllo sull'operatore governo comunale per fare chiarezza su fatti di eccezionale gravità come quella del crollo di una struttura pubblica di quelle dimensioni. Tuttavia resta un importante noto da sciogliere riguardante l'urgente e tempestiva costituzione di parte civile nell'instaurato procedimento penale. Già i componenti della minoranza della passata consigliatura, ricordo il consigliere, avevano diffidato con nota agli atti dell'ente la loro sindaco alla Costituzione e allo Stato non risulta ancora formalizzata. Ricordiamo all'attuale sindaco e componenti della maggioranza che la doverosa azione aveva esercitata con determinati requisiti di forma appena l'inammissibilità. Si tratta di un atto fondamentale perché permette a soggetto offeso di diventare parte attiva nel processo penale e a effetto in ogni Stato e grado di esso. Per il crollo del tetto a palasporto due persone sono state rinviate a giudizio mentre per altri quattro tecnici è arrivata la sentenza di non luogo a procedere. Assolti l'ex sindaco Giuseppe Gianmarco da reato d'abuso d'ufficio e l'ex consigliere comunale Pasqualino Susi finito sotto inchiesta nella veste di tecnico perché il fatto non costituisce reato. Per l'altro ex primo cittadino Terenzio Dicenzo il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'archiviazione.